I problemi economici di Palazzo Zanca fanno slittare la seconda notte della cultura precedentemente programmata per sabato 12 aprile. Le casse del comune di Messina sono a secco e dunque la manifestazione voluta dall'amministrazione a Corinti dopo la rima notte dedicata ad Antonello sarà rinviata a tempi migliori. Il 10 maggio assicura l'assessore alla cultura Tonino Perna per quella data il comune conta di recimolare le risorse necessarie per coprire le spese ed organizzare nel migliore dei modi l'evento che sarà dedicato a celebrare le culture presenti in città. Al centro della manifestazione il tema dell'integrazione tra i popoli. Per quella di febbraio che ha riscosso grande successo e da offerte messinesi la possibilità di riscoprire la figura e l'importanza di un cittadino illustre come Antonello sono stati impiegati appena 14.000 euro, cifra di gran lunga inferiore rispetto ai 40.000 spesi nell'edizione 2012 dall'amministrazione Buzanca. La giunta a Corinti comunque dopo il piccolo incedente di percorso va avanti e programma anche altre iniziative disponibilità economiche permettendo naturalmente nei progetti c'è pure la terza notte della cultura dedicata ai forti dislocati sul territorio comunale.